Signor Mortara, suo figlio Edigardo è stato battezzato e ho l'ordine di prendere. Cosa? Un battesimo non si può annullare. Suo figlio non è più ebreo. Suo figlio è cristiano. Lo porterete via? Sì. Mi taglierò la mia testa, papà. Ti faranno niente. È Gesù crocifisso. Il figlio di Dio. Ma dorme? No, è morto. Lo hanno ucciso gli ebrei. Figlio mio, Edigardo, benvenuto. Questa è la tua famiglia adesso. Quando dobbiamo restare qui? Tocca a farsi furbi. Se studi, non a casa prima. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America. Orpus Domini Nostri, Jesu Christi. Lo riempiono le bugie. Amen. Non ho scritto ovunque. Pare che anche Napoleone III non abbia gradito. Solo a Dio devo rispondere. Io sono il Papa. Questo processo entrerà nella storia. Ma mio figlio? Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Guarda regina, mater misericordia. Siamo finiti. Siamo finiti. Viva Colombia liberata! Vostro figlio è cristiano in eterno.